Bentornati da queste immagini, Don Fernando Benigni, grazie per essere con noi, perché era lì quel giorno, che giorno era? 19 marzo 1981 Era cappellano? Era cappellano di fabbrica, sì Com'è stata quella visita? Ma rivoluzionaria, a guardare un po' anche gli esiti immediati e soprattutto anche quelli che sono rimasti, penso Perché Terni, città dello stato pontificio, del papare anticlericale, Terni poi mettici la fabbrica C'entra più anni di acciaierie che hanno creato, lo sappiamo, un certo movimento E quindi il Papa ha rotto gli argini di certe cose E gli operai come hanno vissuto quella visita? Queste sono proprio le immagini di quel giorno E' una sorpresa perché poi l'hanno voluta loro Non è che l'ha ordinata il Papa o il Vesco Vengono dopo l'elezione di questo Papa Ah hai visto, a Terni si dice Ganzo per dire Sto Papa, straniero, l'Ecqualenza e tutto il resto E vogliamo andarle a vedere due operai Dico senti, andateci il mercoledì, il Papa dice L'udienza generale a Roma, a San Pietro Alla sala nervi si chiamava Però non pensate di parlare con loro Dopo una settimana vennero che c'erano Dice siamo in dodici Tra cui due ingegneri Dice, allora ti c'erano pure io E guardate, ripeto Smorzate gli entusiasmi facili Il Papa non vi parlerà Però lasciamogli qualche ricordo Che cosa? Ma qualcosa che si produce in fabbrica Per esempio i colaticci Che erano le fusioni di acciaio Quello che usciva fuori dalla forma Gli portiamo un colaticcio Arte moderna E ci scriviamo sotto Ti aspettiamo anche noi Lavoratori acciaieria Terni Il Papa telefonò al vesco Che era a Santo Quadri E dice guarda Io sono disposto a venire A febbraio, a marzo Il giorno di San Giuseppe La giornata dei lavoratori E lì allora fu La cosa bella Si mise in moto la macchina Roma ci mandò il Vaticano Il programma standard Delle visite I controlli E tutto il resto Noi proponemmo ricordo Con gli operai Sempre con i lavoratori E un programma strano Tanto che il vescovo mi disse Ma sei un po' matto Tu e i tuoi operai Perché proponemmo Il Papa deve venire in fabbrica E deve essere L'ambiente La messa non lì Al Duomo Perché ci sono Quelli Si deve rispettare l'ambiente laico Consiglio di fabbrica Le domande gliele devono fare gli operai Dentro la fabbrica Dove loro lavorano Dove è la loro vita Le loro fatiche Mangiare Non il vescovato Con i soliti preti Deve stare lì E il Papa deve avere vicino Due operai E allora questo Il vescovo mi disse Sei un po' matto Tu e gli operai Eh avete osato eh Dopo un mese prima Va a far colazione Dal Papa Il Papa ha accettato Tutto il vostro programma Fu bellissimo E' una sorpresa So che c'è un'altra data Per lei indimenticabile Facendo un passo indietro Andando al 3 luglio del 1966 Perché? Che giorno è stato? Quel giorno è stato Il giorno più desiderato della mia vita Io in quarta elementare Cominciai a pensare Di diventare prete Perché vedere un prete Con la veste lunga Con tutti i bottoni Pensavo che quello Non morisse mai Da bambino E quindi poi Sfatai la data Perché feci il funerale Del mio parroco Quindi dico Mogliono anche i predi Delusione E' chiaro che Si parte da una cosa Adatta A un bambino E Quindi andavo Ho voluto sempre andare avanti E Mi è piaciuto Sempre E' chiaro che ho cambiato le idee Tutto quanto Crescendo E E' sempre più convinto Quel giorno sia Un giorno di inizio Di festa Grande Perché è stato il giorno Della sua prima messa Sì Della prima predica E io voglio sottolinearlo Al suo paese Guadamello di Narni Che era un piccolo paesino Che pensate aveva 367 abitanti Oggi ne conta 33 E che Allora Fino ad allora Non aveva mai visto Uno di loro Diventare Sacerdote Diventare prete Lei è stato il primo E il giorno di quella prima messa So che non ha dormito per niente La notte La notte Perché dovevo praticare E poi praticare Alla mia gente E E quindi Non mi ricordo che ho combinato So che non dormi E quindi Ecco Non è semplice Però l'emozione fu grande E Ecco Vedo delle immagini Che mi ricordano Sono proprio Le foto di quel giorno C'era tutto il paese Gli educatori Certo Del seminario Il parroco Che l'ha accolto Nella piazza La gente Certo Certo E quindi Fu per me Non ci vedi più Non ci capì più niente E adesso a guardare le immagini Le Rivivo un po' Quelle cose Il mio vecchio parroco Che era anche professore di matematica Io In matematica Sei meno E lui Diceva Che disonore che sei Che disonore che sei Ecco A destra c'è lì Il parroco Don Antonio Danielli Che mi ha messo la voglia Di Di diventare prete Eh Perché veniva a scuola Elementare E Parlare del prete Lì quando un prete Entrava nelle scuole elementari Io stavo scherzando Col calamaio Sporcando Il compagno davanti L'inchiostro E lui stava parlando Di queste cose serie E io dico Lui dice Ma Dice Noi Paremmo prete Fernando Che sta lì Al secondo banco Tutti si è misera a rire Era incredibile Era il più Fastidioso Io sono nato Mezz'ora dopo mio fratello Il settimo Il settimo Mamma non sapeva niente Ti immagini tu che roba Si è messa subito le mani Tra i capelli Ha detto E adesso una culla soltanto Una bocca in più La settima E io sono sposato La fede di mia madre Di sua mamma? Sì Quella di papà Purtroppo Era sparita Nei sacchi Del dittatore Che doveva vincere la guerra Eh Invece sono ritrovate queste fedi Ma insomma è stato Ce la fa vedere questa fede? Eccola qua La telecamera Poi sua mamma Molto legato a lei Sì Sì mamma Terza elementare Sette figli Mi ha insegnato più lei La fede che tutti i libri Che ho dovuto studiare Per diventare prete Perché ricordo Quando non si poteva alzare Poveretta Le comari Vedevano vicino Che era Spenta la luce Si facevano avanti Elda Si chiamava così Come stai? Grazie a Dio Diceva Allora Ti portiamo I bambini a scuola Ti portiamo Terza elementare Ne ha fatto Doveva fare il pane in casa Il lievito Fantabili Tempi diversissimi Fantastici Quindi che Non te li scordi Mai Per lei la fede che cos'era? La fede La fede come Di mamma O la fede quella Quella di sua mamma Era Grazie a Dio Che l'ha insegnato Diceva grazie a Dio Mentre stava male E lei quando Ma Elda Come fai con sette figli Andando a messa Mi vengono meglio Le faccende Diceva Mi vengono meglio Le faccende Papà come ogni uomo Era un po' più riservato Ma contento Anche lui Tacitamente contento Interiore Un'altra data Le ha cambiato La vita 1988 Una giornata di ottobre L'8 ottobre Di quell'anno Sì Fu un altro sogno Che mi nacque A 17 anni Quel papa conservatore Dicevano Pio XII Quando morì poi Dissi Tra me Ero cresciuto Dissi Ma Un papa Bravo come questo Invece venne Sempre Sempre Dico Non si può trovare più Vennero sempre Diversi E Quindi Come un mosaico Che è sempre Luminosi Aveva scritto La fide idonum Seminari pieni Suore Conventi Non abbiamo ancora Non siamo andati Nelle parti del mondo Dove manca La fede Dove non conosce Gesù A me mi prese voglia A 17 anni Questo pallino Io non andrò Per non dar Dispiacere a mamma Che aveva 50 anni Perché è vecchia Non gli voglio dare Questo dispiacere Ma appena posso Dieci anni Della mia vita Almeno Devo fare un giro E delle Non le dico Le reazioni E fu il primo Così Riuscì a partire Alla fine per l'Africa C'è una foto Che possiamo rivedere insieme Nonostante il vesco Nonostante il primo vesco Che mi aveva ordinato Diceva Ma io porto I preti Dalla mia Diosci Da Padova Che era un po' La sacristia d'Italia E tu te ne vai via Niente Il secondo vesco Aspetta E avevano fatti Tutti il concilio Con queste idee grandi Fidei Fai insieme A me E lui mi è venuto A trovare Era un gemellaggio Un'anteprima Nel 88 Un po' Di questa idea Bellissima Di collaborazione Tra due chiese E fu il progetto E il sogno Si avverò Eravate in Congo Allora si chiamava Zaire 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 Purtroppo Nel gran finale Terribile Sempre del dittatore Di turno Mobutus Ese seco Desiree L'illuso Di cambiare tutto E capitai proprio Nella coda Del serpente Per questo Non furono Dieci anni Furono interrotti Dalla vicenda Della dittatura Rischiava davvero Di diventare Insomma Si Pericoloso E' stato pericoloso Perché ci ho rimesso le penne C'è un'ultima cosa Che vorrei ricordare Legata a Don Fernando Benigni Perché so che Una persona anziana È entrata in chiesa un giorno E le ha detto Don Fernà Stai sul giornale E tu E lei gli ha risposto Oddio Che cosa ha combinato In realtà Per la prima volta È stato scelto Come Ternano dell'anno Il primo sacerdote Nella storia Di ricevere Questo Questo Titolo Che è un modo Anche per riconoscere La storia di una persona E quanto ha fatto Per la città E la sua città Come Fu una sorpresa Io dissi E volevo sapere Perché Mi disse Il direttore Di questo giornale Che è Un credente Ha trovato la chiesa Aperta alle 11 di notte La chiesa di San Giovannino La più piccola Di terni Di terni Ma sulla piazza Passa mezzo terni Al giorno Dove lei è parroco? E non sono parroco Sono rettore Perché non è una parrocchia Io dico sempre Io dico sempre Alla gente che viene lì Venite per l'eucaristia Oppure perché avete litigato col parroco Il signore non ci molla mai Ci dà sempre una possibilità in più E trovano sempre una chiesa aperta? Tutto il giorno? Dalle sette a mezzanotte A mezzanotte Come a casa E per Con l'eucaristia Con l'eucaristia Don Fernando Grazie Per questo bel racconto Arrivederci